Sì, sì, sì. Scusate l'italiano o l'angolo? Un pochino. Scusate l'italiano o l'angolo? Sapete per esempio i colletti di La Pen? Sono fatti come un oggetto di cattivo gusto, con tanto di muso, perché questo succede nella moda, per finire sfuriata addosso alle spalle di qualcuno. E queste cose purtroppo le vedo ancora oggi addosso a giovani che non si fanno una. Per colpa delle persone che continuano a dare soldi. La pelliccia di Astrakhan è fatta con un feto di caracul, che è una pecora. Perché le penne sono... Immaginatevi magari quando cadete che vi stelate un ginocchio fa male. Pensate che male? Si deve sentire quando vi strappano la pelle di dosso per dare soldi a Mazzara. E' come? E' come? E' come? Ogni anno che vedo che c'è una consistenza nelle amiche le donne, che amiamo le donne. Ok, quindi amiamo le donne. Hai visto un po' questa performance? Cosa ne pensi? Penso che è giusto questa cosa, perché siamo... Can I speak English? We are living in a world where... When it's not actual now, because we have... Non è necessario? Yes, because we have so many materials, so we don't need to... Sì, abbiamo tanti materiali alternativi, non abbiamo bisogno... Sì, non abbiamo bisogno di uccidere animali più. Un po' questa performance degli animalisti, cosa ne pensi? Sì, allora è stata abbastanza forte dal punto di vista emotivo, sono rimasta abbastanza colpita. Hai visto la sfilata degli animalisti prima? Sì, abbiamo visto tanti bloggers e anche Anna Wintour, è arrivata già. Sì, hai visto anche la performance degli animalisti prima? Sì, e qual è il tuo pensiero sul loro messaggio, diciamo? Ma io penso che comunque abbiano ragione, perché il tema del... Insomma, di usare le pellicce di animale è veramente attuale. Secondo me Max Mara comunque dovrebbe prendere una posizione in... Anche loro dovrebbero prendere una posizione, esatto. Quindi, c'erano protestazioni per l'utilizzo animalista e qualcosa di così. Quindi, qual'è la posizione di questo? Cosa pensi di questo? Ecco, come per l'utilizzo di fur? Real fur? E come per l'utilizzo? La cosa è che non ho capito, non ho capito una conclusione. Allora, io amo animali e ho capito. Allora, per l'altro, producendo qualcosa che è plastica... E' costa per l'alimentazione. È come per l'alimentazione. Credo che dovrebbero modificare la produzione di fur. Non mi piace di dire, ma la cosa è che le persone, quando... Mio anni fa, avevano... ...l'alimentazione di fur... Per l'alimentazione di fur, sì. Ok, ora non abbiamo bisogno di questo. Ma, comunque... Non ho capito. Non ho capito. Mi piace animali. Ma, per l'altro, mi piace... Non ho capito il plastica. Hai ascoltato delle protestazioni di animali attivisti qui? In Fendi, certo? Oltre Fendi. Come per Max Mara oggi? Sì, ho capito, ma non ho capito molto. L'ultima volta, in februari, era grande in Fendi. Cosa pensi del loro messaggio? Beh, hanno la libertà di parlare. Noi siamo in Italia, certo? Quindi, hanno l'alimentazione di parlare. Ma... Se non fanno qualcosa di violente, penso sia bene. Quindi... Hai concordato con loro sull'alimentazione di animali in Fendi? Un po' e un po'. Io sono vegetariano, perché mi piace animali. Ma, per esempio, è molto difficile di evitare... Noi... All'alimentazione di animali. Esatto. Perché, anche se c'è qualche... Non lo so, c'è... 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 C'è molto difficile. Sì, quindi pensi che dovremmo evitare l'alimentazione di animali? Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Questo applica anche ad altri animali? Come... Cosa di animali per la città, per esempio? Sì, sono vegetariana. Sì, sono vegetariana. Sì, è vero. Sì, non c'è carne. Sì, non c'è carne. Sì. E niente, è molto scioccato. Cosa ne pensi di questo, cioè della crudeltà, diciamo, sugli animali? Penso che tutto il mondo debba prendere coscienza di quello che avviene. Perché se la gente continua a fregarsene e a ignorare il tutto, niente può cambiare. Quindi deve partire da noi, nonostante possa sembrare un lavoro inutile. Certo. Secondo te è necessario per noi, per gli esseri umani, insomma, vestirsi con... No, ovviamente dal punto di vista estetico ha un suo fascino. Ma essendoci comunque al giorno d'oggi, nel 2019, essendoci così tante alternative di prodotti naturali che comunque non causano nessun tipo di danno all'ambiente e a chi vive l'ambiente, secondo me sono da privilegiare. Cosa ne pensi delle pellicce? Delle pellicce? Sì. Ah, i miei preferiti sono quelli di giallo, di blu, azzurro, che abbiamo visto febbraio. Sì. Sì, quelle sono mie preferite. E cosa... Sai come vengono prodotte? Cosa ne pensi di quello? Sono prodotti non dagli animali. Non dagli animali? Sì, penso che di sì. E se ti dicessi che Max Mara le produce ancora usando animali, cosa ne pensi di quello? Ma secondo te, diciamo, perché non ho le pellicce? Cioè, qual è la motivazione più forte? Ma secondo me, perché comunque la pelliccia vera si vede che è più... insomma, fa moda. E' difficile riprodurla e avere lo stesso effetto su un capo. Quindi, se non è necessario, come giustifici la vita di un animale che non vuole? Non giustifico in ogni modo, ma comino la carne. E' un po' di più. 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 E' un po' di più di più di animali. E' un po' di più. E' un po' di più. Ma come si sono stati vivi? Ma dobbiamo rispettare la natura. Non vedi a i limiti, non vedi a ogni tipo di limiti. E' solo la parte di in cui, che si stai nel medio. E' molto difficile dire. Perché anche se non usiamo questo, ma c'è il mercato. C'è il mercato. C'è il mercato. Esatto. Io non uso questo, ma tu lo usisis. Quindi, per esempio, se lo usisiscono, allora... E' molto difficile capire questo problema. Secondo me, il futuro è che tutti i brand cominciano a non usare gli animali. Non usare gli animali. Sì, questo è il futuro della moda. Esatto. Secondo me. Come Gucci, come Prada, come Burberry. Certo. Sì. Perché, diciamo, è brutale, no? Il modo in cui vengono... Sì, sì. Così non si fa la moda. Certo. Certo. Secondo te, perché appunto i brand dovrebbero smettere di usare pellice vera, no? Da animali veri. Ma perché comunque è quasi 2020 e non ha senso far soffrire questi poveri animali più del dovuto. Do you think there's other options, like eco-friendly options, not to harm the environment? Of course. Of course there are eco-friendly options, but they are more expensive. Are they gonna follow it? Yeah. So do you think it's a price thing? Of course. Listen, everything is about money. Yeah. Ok, so? Like supply and demand. So, if the demand changes... Yeah, the demand is gonna change. The price is gonna... Ok. I don't wear furze. I don't like wool, for example, for me. I stick to the other stuff. But, on the other hand, this thing costs to the economy. Yes. And what do you think about the crudely animals, regarding the world of fashion and non- Hmm. Hmm... Second me, è importante fare attenzione alla sostenibilità. Per quanto riguarda il cibo, invece? Il cibo, io non sono vegetariana, lo ammetto, però penso che, comunque, se gli animali debbano essere usati per il sostentamento dell'uomo, questo non giustifichi la crudeltà. Per quanto riguarda il cibo, invece, cosa ne pensi dell'utilizzo degli animali? Ma io mangio carne, però è anche vero che bisognerebbe diminuire l'uso della carne nella cucina di tutti i giorni. Secondo me si deve ridurre prima. Sì. Passi devono essere piccoli. What about milk? Oh, no, I don't drink milk. Non perché è vero, perché non è buona. And il cheese? Do you eat cheese? No, yes, I eat sometimes. And what about food? You said you are vegetarian, why is that? Well, because I like animal. It's like you don't eat your friend, right? So what about milk, cheese and eggs? I think milk and cheese is okay, because you don't kill a cow to get milk, right? So I think it's absolutely okay. So what about the cow? Do you know how milk is produced to... Yes, I can imagine. I heard like cows are like forcibly impregnated and their babies is taken away from them. Secondo te è necessario per noi o si può anche fare a meno? Per esempio, io mangio carne una o due volte alla settimana, non di più. Se gli animali vengono rispettati fino al livello del consumo, allora non c'è nulla di male. So do you think it's necessary for us to live, like eating cheese? For our health? No, I, yes, I think we, we can, we can, we can, maybe, yeah. So if it's not necessary, how is it different, like from, from, for? I think there is no difference, I mean, it's, it's, it's... E sai come viene prodotta quella? La carne? Sì. Sì, naturalmente. Sì. E, appunto, che differenza c'è con... è crudele? Sì, assolutamente. Sì, d'accordo. E per quanto riguarda la sofferenza, no? In parallelo a come sono prodotte le pellicce, per esempio, cosa ne pensi? Beh, penso che bisognerebbe almeno trovare un modo per... cioè, far uccidere gli animali in modo che non soffrano, però secondo me non è possibile. Secondo te c'è un buon modo di, appunto, uccidere un animale che non vuole morire? Non sono abbastanza informata. Ok. Sì. So, can we respect like an animal if we kill them in the end? I mean, yes. I mean, they kill, but please kill them, like, just reduce them. With no harm. Exactly. So is there a humane way to kill an animal who doesn't want to die? Because even though they die, you need to show the respect. Esiste un modo buono per uccidere qualcuno che non vuole morire, diciamo? Ah, questo non ti so rispondere, è una domanda troppo difficile. So would you ever consider, like, stop eating cheese and eggs, something like that, in the future? Yes, I think we, we can stop it, do it. I mean, I'm on the way, I'm still eating cheese sometimes, but I like vegetables and fruits more. From, from the childhood, my mother said my first word was, like, apple and banana. What about, like, vegans and something? Have you heard about it? I support what they do, but for me it's very difficult to do. For example, like, no cheese, then if I go to a pizza, I want a pizza napolitana, but I can't, so it's very difficult. Hai mai considerato, invece, di smettere, per esempio, di, sì? Sì. E quali sono i tuoi pensieri su questo? Forse nel futuro smetto assolutamente di mangiare carne, anche dei prodotti che usano animali, come formaggio. Certo. Sì. For you the most difficult thing is taste? The taste, yes, but, and then again... Like, for instance, in... Yes, and again, it's like, where it from, what you said, like, how they produce, if it is, like, unfair, cioè, whatever, then I'm not gonna support it. È meglio per la nostra salute, non solo per gli animali. Certo, per gli animali, per il pianeta, sapevi anche dell'impatto ambientale. Sì, ma anche della salute umana. Anche della salute umana, certo. Why are you reducing when we can abolish it, like, change? Totally. Yeah, like, change it totally, like, no violence anymore, yeah. Yeah, let's go for it. Let's go for it, yeah. Are our taste buds worth more than the life of an animal? Or should we value more, like, animals' life? Actually, it should be more animal life. More animal life, yeah. Yeah, because we both share this world, right? So it's not only us, so I think, yeah. Yeah, yeah, we're all earthlings. So that's why I think, yeah, I agree, yeah.